La ripartenza della Melegatti comincia con le pulizie d'autunno. C'è uno stabilimento fermo da manutentare dopo mesi di blocco, ma 35 dipendenti storici pronti a reattivarlo al più presto dopo l'ogito notarile che ha affidato nelle mani dell'imprenditore veneto Roberto Spezzapria i 124 anni di storia e tradizione del marchio, a cui si associa l'ideazione del Pandoro. Melegatti ora fa parte di una filiera alimentare che la vede in una compagine con tre società di packaging, una di Vicenza, una di Trento, l'altra di Modena, che la proprietà vede come strutturata per garantire economie di scala e ampliamento di competenze. L'aver concluso la trattativa, hanno garantito gli Spezzapria, li mette in condizione di concentrarsi maggiormente sui prodotti e su un progressivo aumento della produzione di Pandori e Panettoni che porterà a nuove assunzioni in un futuro non troppo lontano. I tempi ristretti consentiranno solo una presenza limitata ma importante, i negozi nel cuore di Verona che ospiteranno una edizione speciale del dolce natalizio a marchio Melegatti e non sono ancora stati comunicati. Soddisfatti i sindacati per gli accordi chiusi che danno respiro a una situazione rimasta a lungo tesa e senza sbocchi. Conforta oltretutto che nel nuovo e giovane Consiglio di Amministrazione sia presente, oltre al figlio di Spezzapria, Giacomo, anche quel Denis Moro che recentemente si è reso protagonista della rivitalizzazione dello storico marchio Fonte Margheita, stabilimento di acque minerali rilevato a un passo dal fallimento ma poi ripartito ottimamente sul mercato.